Qua ti metto la vostra nella palama Ti metto una vostra nì Qua ti metto la vostra nì Qua ti metto la vostra nì Grazie a tutti. 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 Aguero. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Pagni che ci sono völlig State! Ecco l'è che l'è, tutti i nostri amici! Il primo grande grande... Il Patrick Cliver! Lo sai! Acce il l'è? Lo sai? Chi? E' questo il primo è il calcio l'estero... Ma... Oh, non è il c'è questo proprio... Ma il c'è quella... Sì. Sì. Mi c'è l'amore? Mi c'è l'amore? Jaj Istenem! Ez a soccer-es! No, mai fai menjünk a Facebook-ra. Vagy fai tessi un telefono! Torni a telefono! Ne indi! Vagy Jói? Jói? Csia, pófélsz! Megállítsad?! Jó van! Na, nézzük meg itt őrjönjük, hogy milyen fasz csinálsz már, Laci? Nézzük meg itt őrjönünknek, hogy milyen faszcsinálsz már, Laci? Jó van! Jó van! Jó van! Milyen faszcsinálsz már, Laci? Cosa? Si! Hai parlato Gianni con Laci? Ha detto che non si può vedere. Ha questo è un poffi qui allo stesso tempo. C'è un poffi? il voce è molto piacevole, ma la c'è l'estero e la prima volta che ci sono i suoi e la prima volta non è sempre l'esso non è la sua la mia la mia la mia la prima la prima la prima la sua la mia Il giro è il giro, non è che non è il giro è il giro, non è così, non è il giro. E l'ho accettato, non è il giro. Giusevic, un buono il giro, buono il giro. E questo è Lozano. E' un giro, perché era un giro, ma i giro vanno bene. Ora, questo sembrava. Ora, ok. È un giro. L'esaggione dell'esaggione. Il l'esaggione Noss'es tornam la finestre. Poi non stai conosciti. Non c'è основa che il l'esaggione. Sì, sennò che è l'esaggione. Cosa è Berin. Ora che sono qui. con qualche danger per l'opposizione ora che sono qui giocato bloccato l'applicato quick witted e quick in questo movimento per l'intercepto era un buon play until they got that challenge in now Sadio Mane comodo con il ballo Edwin van der Saar Alian Robert Jun Yushevich Joshua Kimmich a bit of interplay between these two coming on strong and looking to play their way through now shots on here a power a power a bit of direction oi benne maradta a kenyerit and that will be Gorky hey Zurglep Erick Bailly, Alex Oxlade Chamberlain. Prendi qui. Csakkel. Prendegy, megnézzük ők milyen lesz itt. Ez most ez komoly. Csakkel. Csakkel. Spori, meg minden! Most ki volt, ki volt? Sì. E' questo solo un caso di un'esercizio? Beh, credo così. La scuola non è necessita di fare una montagna di questo moll hill, ma è una scuola. Per la Kimmich. Pagli! 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 Donno! ... ... ... Cosa che William ha ottenuto qui? Con l'eserci l'esercizio. Aguero! E questo potrebbe essere l'esercizio. Buono un'esercizio. Non c'è l'esercizio. Non c'è l'esercizio. C'è Kimmich. Top frac. Joshua Kimmich. Joshua Kimmich. . . Patrick Clever. . Patrick Clever. Yes baby. . . . . Il primo utamo questo modo. E' una città di questo modo. E' una braggio, anche una braggio. Si! Si! Ma anche se fosse un giorno. Ma ci sono anche un giorno che potessero poterci il giorno di oggi. Ma era un po' di più. E' un po' di più. Non è un po' di più. Che non è un po' di più. Adi un po' di più. OOOY KENYÉRHAJ! ... 4-2 ... 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 eleg Ma non è il ragazzo, non è il ragazzo. Si, non è il ragazzo, non è il ragazzo, oltre a loro ragazzo, 11-es! Ha già mai ne 11-es! Clive e giri ide! Lash! Vini! Vini! Hogy ő van van! Hogy ne vannak... Nem kell maradni... Hogy ne vannak! è il buono bene è il buono il genio è il buono non puoi non puoi qui ci sono a foto non puoi è il buono è il buono è il buono è il buono belle ravi e non c'è Eccolo, l'accesse 2 stelle di lasciare Eccolo Perciagni Ok, spai l'azzar qui qui ti il il mi va ezzel mi va ezzel kine fogo ad andare a contrattare a di sengire più bella a manager? aaaah ... e 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 è il video che ci sono? 7 coppola 7 coppola ah è il video è il video è il video che ho trovato la Playstation è il video 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 il video è il video c'è di è il, è il video il video ci sono di il video il video non il video Eccolo 2 perc al attore ciontot potente di provarmi A ciontot non ciontot non ciontot Oggi? 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 I volevamo Hi 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 Hallo Ghostboss Junior Ch�매ci Mi? No Ah, mi? Ora, ci sono, è stato molto molto molto, per il nuovo scèzio, dopo il scèzio di scèzio, ma si sono rai a scèzio, ma si sono rai a scèzio, ma si sono rai a scèzio. c'è una buona poi le attacchi come si siano un pollo è giocato è giocato poi non c'è l'ho non c'è un pollo La scuola è l'opposizione per fare l'intercezione. Ora Bayley. Werner... E' la scuola. 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 Io Piero. Per Councillor Skywalker, preta una scuola. EnrageSON fappropriòria-ibb. Belecc어지za, felhaszn garment pasuola, ar�ografia. Imidentiire! Ce rozya pont a vo necessarily, olyan után scope pewire M殿 d'ha benne strongest� e credo che il suo potere è una cosa, perchè non vettere Si vedi che il ragazzo poterci il gioco, e anche con il passaggio Lars Tintel Pizze Cech Tiago Werner now they've got a chance in this part of the pitch now they've got a chance in this part of the pitch now Sadio Mane Bellarabi we're looking at a well coach team here drilled in winning a little too eager to get in front of the side just head to the line I see you! where are you? I'm going to go to the side watch out Alex Oxlade Chamberlain I'm going to go to the side 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 he's taking on his man and beating him while this attack could have been a menace to it I'm going to go to the side I'm going to go to the side I'm going to go to the side well it's an important area to win back the ball Bernard Bernard I'm going to go to the side I'm going to go to the side I'm going to go to the side Alex Del Piero Kyle Walker Is Aguero Del Piero Del Piero That's a good block Now Bayley Werner Werner This could lead to a chance it's a good attacking play I'm going to werde them in front Weee il mio amico si è stato un pochino il giro è perfetto per lui non si non si non ma tu non sei il giro il primo giro è 1-0 io ho Zé Cristiano Passos 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 Dozzon Igen 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 Itt Igen Igen Non è mai. Ah, che n'yerro. Deve n'yerro da. Sì, 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 Sì. D'Arstinkel. Mi piace vedere questo, e questo è una scuola, e ci sono una scuola per questo. Werner, lo scuola, bello, bello. è chiaro Ora ora. Si tracciate. Aguero, due minuti di spazio. Due minuti di spazio. Due minuti di spazio. Jaj! Miért fújod le, most kapott poláciai gólt? Jobb vagyok, Core. Mindjárt, Jonny, egy fél idő van, aztán tél vagyok. Gyere vissza, gyere. Na, itt a rossz fiú. Ötöd a rossz fiú. Majd a rossz fiú. Majd a rossz fiú. Gyere igyárt. Na már, én ezen, hopp. Aaaaaah! De így. Ne jól igaz, majd fel tekist kapját. Ugyan. Ugyan. Oké, még ezt lejászom, oké? Utána tév vagyok. Ők. Ez a helyzet. Azt a helyzet. Azt a rossz fiú. Questo è stato di più di questo, è bene il loro punto di vista. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eccolo Beari. Qui sono, solo attacca. Ma che è che è che è che è il giusto? Eee! Aguero! E' una scuola per il gioco. Ecco. Si chiedono il gioco, ovviamente. E' una scuola potrebbe essere aiutato. E' inizia. E' ancora un po' per il gioco. E' una scuola. La Cruza. è stato un'altra parte, non è vero? è stato un'altra parte, non è vero? è stato un'altra parte, non è vero? è stato gioco davvero bene, non è? è stato gioco un gioco per il team e sarebbe piaciuto con i primi 45 minuti potrebbe essere una possibilità che abbiamo fatto il gioco in un buon area per finire... ci sono gioco! Chiaro della il corna. Dopposito a perdone ogni Alguero. Ora c'è di怎麼辦. Spora il fatto anche, per direnco la passione di percorso. Iago. Lars Tindl. Mi ha fatto tutto il tempo, ha fatto molti di intercepcioni. Ora sullare. E ora la scuola! Non c'è la scuola la scuola, non c'è la scuola la scuola. Si, credo che la scuola la scuola. E questo è una scuola. Iago! Ma io! Ed Signor ha detto che non è bu . E questo è stato a sounding app, ma io sono la scuola la scuola. E la scuola? E l'Evere. E adesso la scuola come per la scuola. O di questo forno. Il forno di un livello. Il primo tocco era buono, ma deve lavorare molto bene per mantenere il gioco. E Herrera, Mbappé, e qui è Del Piero. Buono gioco, è stato fatto, non mi ha lasciato il gioco il gioco il gioco. Tiago, è davvero difficile per essere il controllo di questo team. Ora, non ho vedi l'oscenza, non lo so che doveva? Mi sembra sempre a lasciato il gioco? Mi sembra di un gioco. Non so se non so se ne vedo l'agia da, che ciò che si spese. Se ciò che si spese un gioco? Tiago, non ciò che si fai un gioco con questo. Ma loro avvissano il gioco, la gioco ha detto che sta spese. Si spese a spese. Stoicando a spese a spese! Si è stato un'espillante a PCIe, per farlo di chiudere il fatto di acquittà e lo spettino. Come Napierre avvisssi per le ai ducati! Listocca il percorso l'alimentare! SiPPONTIO! Sono stati! Si sta di rinzelliamo la controlla che delle le scuionate qui che hanno metto la scuola. È bene di una scuola di chiama! Poi si sta di tremano, che è un'esperанный, può essere THAT SHE OFF! Voi si sta di perciagine in una scia di parola, Cosa Ah, sì! Ah, ora è già già. Ma adesso è un passaggio, andiamo a te! C'è una possibilità di perdere il cauntero. Alex Oxlade Chamberlain. Hector Berry. Cruzer. Hector Berry. C'è una possibilità di perdere il cauntero. Leste vigyáz. Uuuuuh, ez egy utalizsort. Kirette? Mamba! Béka fejünk, Geci! Jó, jó, jó. Jó, de igazából mindenkinek, Quindi il gioco dell'attività è una cosa che non è così. La possibilità di fare l'attività, si troppo bene. C'è una cosa che ho è più forte, ma la rotazione è diventa. Chiamatlo. C'è chiama. Il c'è chiama. Si! L'ultima. Tiago, played forward, a bit of menace in this attack. Sporia, shami! Hector Berry. Vero come in there, come. They could pose some danger now. E-O-I! E' Herrera, bene la scuola, la scuola. Bellarabi. Va fare una scuola. è piuttosto le pilota Sì 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 Non fujo prima peggio! Ma non fujo prima, il gioco ma è un' sezce. Siamocire a passione. Non c'è nessun tempo, non c'è nessun tempo. now in front of them walker ma free says play on it wasn't a good tackle without any doubt but the worst thing the supporters when you've got the ball is to hold up the plate this baby so we'll restart with a throw-in Patrick Kluivert cruiser hey quick witted and quick in this movement too I'll generally pass what could be a chance here I've got the ball into a good area last thing c'est faux stopped him practically and just as well the approach play looked very encouraging last thing he's cut that out he's cut that out he's cut that out he's cut that out it's Aguero makes a challenge here and here is Kluivert every doing everything possible to keep this game flowing suddenly they could be on the counter attack oh they're almost too quick for themselves he's cut that out OUUUUUUUUITY plussar be an a Ero I 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